Salve a tutti, adesso facciamo il boss Bud il ragno, me ne ricordo a memoria io, questo gioco mi... Scusate sulla voce un po' che non riconoscete quella da com'è ma... Dai cazzo Leo, bravo Leo Si chiama Leo il protagonista, sì, penso di averlo detto E ormai devo fuggire Usate questa tattica sempre per... Ma che cazzo fa? Comunque abbiamo visto tutto ancora Andate in cerca di questi filini, ecco, che ve li indica pure la mano Oh, abbiamo rotto la ragnetela No, cazzo! Abbiamo sbagliato qualcosa? Siamo morti? E invece no! La cosmonave di Marcucci è salvato! Livello completato, risultato ok, 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 va bene Ok Abbiamo sbloccato questo nuovo mondo però facciamo nel prossimo video Grazie a tutti! we